Ciao, benvenuto nel mio canale YouTube, ti raccomando se non lo hai ancora fatto iscriviti assolutamente al canale e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi video che farò su un post al sole e tanto altro ancora. Finalmente c'è stata una bella accelerata per la questione di Lara, Roberto Ferri e piccolo Tommaso, veramente stanno succedendo tantissime cose ed era ora perché comunque le puntate così con continui colpi di scena sono ancora più belle. Eravamo rimasti con Ida che fugge con il piccolo Tommaso per evitare che Roberto potesse fare i test del DNA, ma Ida viene fermata da Roberto stesso e Lara che riescono a evitare che Ida prenda il pullman, quel pullman che parte per la Polonia. Ida si fa convincere dalle parole di Roberto che dice alla ragazza io so di non essere il padre di questo bambino però voglio comunque prendermene cura perché ci sono affezionato e voglio solo il bene di Tommaso, non voglio assolutamente fargli del male. E con queste parole riesce a convincere Ida a non partire più. Roberto così accoglie la ragazza con Tommaso nella sua casa e l'ha fatta accomodare nella camera degli ospiti e inizialmente Marina è molto molto diffidente nei confronti di questa ragazza. Comincia ad avere tantissimi dubbi, infatti dice Roberto ma come possiamo noi fidarci di una madre che ha venduto il proprio figlio. Roberto cerca di prendere le difese della ragazza dicendo che comunque lei l'ha fatto perché si trovava in una questione, in una situazione di estrema difficoltà e che comunque ora ha cambiato idea e vuole soltanto il suo bambino però Marina non è non è convinta, non è affatto convinta e così Marina e Roberto decidono di fare una proposta a Ida. Roberto parla con la ragazza, le dice io ti do un bel po' di soldi in modo tale che tu sparisca dalla nostra vita, ci lasci Tommaso che crescerò io insieme a Marina e tu sparirai dalla circolazione. Ida però non ne vuole assolutamente sapere, dice che non è una questione di soldi, che lei vuole soltanto Tommaso, vuole crescere il suo bambino e così Roberto cerca di fare, cioè fa una nuova proposta, una controproposta, le dice io ti do ugualmente tanti soldi per poterti rifare una vita e potrei venire a vedere Tommaso ogni tanto, però Tommaso rimane qui con Marina, con me Marina. Però Ida, nemmeno questa proposta, insomma Ida crolla, ribadisce il fatto che per lei non è una questione di soldi ma vuole soltanto stare con suo figlio. Roberto quindi così è messo alle strette e dovrà cercare di trovare un'altra soluzione il prima possibile. Nel frattempo c'era Lara che insomma sembrava messa da parte e invece ha fatto di nuovo la sua apparizione. Viene chiamata prima da Roberto, che si vede nei cantieri, perché Roberto vuole far firmare a Lara una carta dopo che Roberto si è consultato col suo avvocato, vuole far firmare una carta a Lara con la quale lei praticamente rinuncia a Tommaso, cioè andando a lavorare lontano, so, in una città lontano da Napoli e quindi lontano da Napoli e non può gestire il bambino, rinuncia a lui e di conseguenza verrebbe affidato a Roberto. Lara però insomma inizialmente dice ma come mi hai chiamato solo per questo? E Roberto dice perché cosa ti aspettavi? Cioè ormai tra di noi non c'è più nulla. Tommaso non voglio più che lo vedi e quindi secondo te per quale altro motivo ti avrei chiamata? Ida inizialmente non firma la carta, insomma ha preso del tempo ma insomma noi sappiamo benissimo che quella carta non la firmerà mai e Lara una volta tornata a casa decide di fare una mossa, una sua contromossa, chiama direttamente Ida sul cellulare. Inizialmente le due hanno una piccola discussione perché insomma erano rimaste che Lara non doveva più assolutamente cercare Ida e invece l'ha contattata. Comunque dopo questa discussione Lara dice a Ida di stare molto molto attenta a Marina e a Roberto che sono delle persone cattive che vogliono soltanto prendersi Tommaso e lasciare fuori Ida. vogliono solo il bambino e nient'altro e quindi non si deve assolutamente fidare di loro. Inizialmente saranno stati tutti carini, gentili, però il loro unico obiettivo è quello di avere Tommaso. Ida riflette su queste parole di Lara e decide di fare una seconda fuga. Decidi di fuggire da casa di Roberto Ferri. Fa la valigia in fretta, prende Tommaso in piena notte e cerca di fuggire, ma proprio mentre apre la porta di casa viene sorpresa da Roberto Ferri e quindi la fuga finisce ancora prima di essere iniziata. Ida viene subito praticamente colta sul fatto e Roberto dice ma cosa stai facendo a quest'ora, dov'è che volevi andare? E oltretutto Roberto ovviamente insomma è furioso, si scaglia contro Ida e dice ma come tu volevi fuggire da noi, adesso Tommaso lo prendo io, dorme con me e Ida però non dà Tommaso a Roberto, dice no, Tommaso rimane con me e a un certo punto Marina decide di intervenire. Con tutta tranquillità parla con Ida, le dice sicuramente Ida ha capito il gesto che ha fatto e adesso che l'ha capito sicuramente non lo rifarà più, quindi non ci sarà il rischio di una nuova fuga e in sostanza quindi all'arma è entrato possiamo andare a dormire. Il giorno dopo Marina e Roberto che sono da soli parlano di quello che è successo insomma la notte stessa, la notte prima e Roberto dice ma come, chiede a Marina perché ha preso le difese di Ida, soprattutto quando era lei inizialmente ad avere dei forti dubbi su Ida e stanotte ne ha avuta la conferma che lei aveva ragione e Marina però dice che, dice Roberto, guarda secondo me lei veramente ha capito che stava facendo un errore gravissimo, fuggendo e sicuramente è un gesto che non farà più e oltretutto adesso che io ho preso le sue difese che mi sono messo dalla sua parte molto probabilmente è più facile che con me possa aprirsi e possiamo trovare magari un accordo e così Marina decide di andare a parlare con Ida senza Roberto perché inizialmente Roberto voleva andarci a parlare con Ida però Marina lo blocca subito dice no ci vado io allora Marina va da Ida e le racconta un episodio molto importante che ha vissuto Marnina stessa le racconta che lei ha due figli Elena e Lorenzo Lorenzo l'ha avuto all'età di 15 anni però appena è nato suo figlio sua madre l'ha preso e l'ha dato ad una famiglia di benestante una famiglia ricca che non poteva avere figli e così Marina per tantissimo tempo non è potuta stare con suo figlio che poi ha ritrovato nel corso del tempo e quindi in questa maniera le due ragazze le due donne si sono rese conto di avere in comune questo passato e quindi sanno entrambe che cosa vuol dire passare questo genere di cose e così le due donne si abbracciano e con questo abbraccio forse potrà nascere veramente un'alleanza tra Marina e Ida e quindi possiamo dire che la mossa di Lara è stata controproducente per lei perché lei pensava di giocarsi questa carta a suo favore invece senza saperlo ha fatto in modo che Marina e Ida si avvicinassero e quindi potessero addirittura allearsi ora contro di lei Lara qui c'è un'importante anticipazione per le prossime puntate un'anticipazione molto molto importante cioè che Lara cercherà di vendicarsi di Marina stessa e deciderà di ucciderla quindi Lara vuole uccidere Marina arriverà a tal punto di compiere questo gesto Marina verrà però salvata da Ida e quindi possiamo dire che questo questo evento legherà ancora di più sicuramente Ida e Marina quindi Ida e Marina contro Lara e qui succederà ancora chissà che cos'altro ci saranno sicuramente delle conseguenze io voglio chiederti che cosa ne pensi di tutto quello che sta succedendo in questa storia e quali sono le tue ipotesi future anche a proposito di questa importante anticipazione che ti ho dato quindi scrivi le tue opinioni e le tue ipotesi nei commenti che io ti leggo sempre molto molto volentieri e poi ovviamente ti raccomando se non sei ancora iscritto iscriviti assolutamente al canale e noi a questo punto ci vediamo al prossimo video ciao